Finalmente a ringraziarvi per essere venuti a raccogliarvi, sono arrivato a Varese con uno spirito di profonda contentezza sia per la bellezza della città sia per la tradizione giuridica che vi contraddistingue. La mia intenzione è cercare di sviluppare al massimo lo spirito di collaborazione che già è molto forte tra la procura e il tribunale, tra la procura e il foro. Credo che il PM come promotore di giustizia, detta sempre tendere, ai rapporti più costruttivi possibili, sia nei confronti del giudice, rispetto al quale è un organo promotore e servente, essendo esecutore delle sue decisioni, sia a sviluppare la funzione di promozione della giustizia nel massimo rispetto dei diritti di difesa costituzionalmente turistico. Credo profondamente che il rapporto fra PM e difensore debba essere costruttivo perché dalla dialettica, che talvolta comporta anche una contrapposizione forte, può nascere quel confronto di idee che permette al giudice di essere giusto. Vengo a Varese con l'intenzione di starci stabilmente i cinque anni che mi separano dal pensionamento. ho portato casa a Varese proprio per significare che non sono impastati questi cinque anni. Sarò presente e pronto ad accogliervi e a confrontarmi con voi in tre volte che vorrete. Grazie di cuori e sereniti. Grazie.